eccoci qui ragazzi benvenuti in questa prima lezione di 6 che abbiamo preparato per questa iniziativa vita da trader oggi e nelle prossime 6 lezioni matteo che è qui con noi ciao matte benvenuto ciao ragazzi benvenuto a tutti ci regalerà tantissimi consigli pratici suggerimenti segreti tra virgolette di come come si fa insomma per diventare dei trader professionisti e soprattutto ci racconta quello che lui fa nella sua giornata tipo da da trader quindi iniziamo subito oggi con il piano di lavoro operativo del weekend per prepararsi alla settimana alla settimana di trading sapete che non è soltanto il trading non è soltanto che adesso compro adesso vendo ma c'è tantissima preparazione quindi il piano di lavoro è fondamentale e allora nessuno mai vi spiega il piano di lavoro vedete sempre la parte finale quanto hai guadagnato quanto hai perso e allora matte oggi ci 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 spiegherà bene come si prepara per per la settimana di trading matte io adesso mi taccio e ti lascio la parola allora esattamente come hai detto prima di cominciare ogni trader professionista diciamo che lavora sui mercati finanziari prima di iniziare il proprio lavoro deve comunque sia sempre avere il famoso piano operativo no allora io qui ho cercato di spiegare più o meno quello che faccio io nel fine settimana perché da lì si parte no cioè la partenza è proprio per capire nel fine settimana a mercati fermi quindi quando i mercati sono chiusi sabato la domenica quando uno ha tempo diciamo io personalmente faccio quella che per me l'analisi la definisco un po' l'analisi macro diciamo così inteso come mi vado ad analizzare un po' tutti i mercati e ovviamente a bocce ferme a vedere come hanno chiuso la settimana come hanno lavorato dove hanno lavorato e via dicendo quindi io ho come mi preparo quindi il sabato mattina che più o meno è normalmente il mio solito giorno per il quale dedico all'analisi più che altro per poi avere il weekend libero quindi proprio una questione di scelte quindi sabato mattina mi alzo e mi faccio le mie quattro cinque ore di analisi quindi sono proprio diciamo mezza giornata proprio full immersion in quello che faccio sui mercati e vado a vedere tutto quello che è successo e quindi per avere una prima idea di quello che i mercati ovviamente quando io porto i mercati io personalmente analizzo tutti gli indici quindi mi vado a vedere tutti gli indici europei che sono l'euro stocks e il dax e poi mi vado a vedere gli indici americani che sono l'SP 500 e Dow Jones e non guardo tanto il Nasdaq perché io personalmente non lo trado e a livello operativo e a livello di per la mia strategia il Nasdaq lavora un po' diverso da quello che sono le mie logiche quindi non lo guardo tanto poi ovviamente mi guardo un po' le valute mi guardo le materie prime do uno sguardo un po' generale ma sui quattro indici è dove spendo maggiore il tempo quindi cosa faccio parto dai time frame più ampi ovviamente quello settimanale per capire il trend del mercato per capire dove il mercato ha lavorato dove il mercato quali prezzi ha battuto dove aperto dove ha chiuso dove è stato il massimo dove è stato il minimo e cerco di capire un po' quello che sono le zone operative più importanti cioè quelle zone in cui il mercato come si suol dire non so se magari uno l'ha mai sentito dove il mercato ha reagito dove il prezzo ha reagito cosa vuol dire che ha reagito dove il prezzo ha avuto un momento di magari si arrivava da un trend rialzista si è fermato ed è tornato un po' indietro quindi quello è un livello che per me è un livello ovviamente sul time frame settimanale è molto importante perché vuol dire che il prezzo da lì non è riuscito a continuare a salire quindi c'è intervenuto una forza contraria che ha fermato il prezzo la stessa cosa se il mercato fosse stato short vado a vedere quali sono quei livelli dove il mercato ha fermato la sua discesa e poi è ripartito a rialzo e ovviamente da lì comincio a vedere quali sono i prezzi e mi faccio le mie le mie idee di quello che il mercato ha sviluppato il lavoro no e ovviamente uso la classica analisi tecnica per far questo quindi faccio un po' un mix tra analisi tecnica volumetrica e inserisco tutta una serie di tecniche che ho sviluppato nel tempo per capire le forze che sono presenti sul mercato una volta che ho fatto questo a livello weekly praticamente con i time frame grandi faccio la stessa identica cosa però sul time frame daily cioè praticamente vado un po' tipo matriosca no quindi parto da una fotografia un po' più grande poi comincio a stringermi quindi vado sul teli faccio le stesse cose vado a osservare quello che sono i livelli operativi i livelli di reazione ovviamente 15 prima sfruttando questo lo faccio sui time frame grandi sfruttando la classica analisi tecnica e ovviamente abbinato anche l'analisi volumetrica e poi così cosa faccio passo all'analisi intraday quindi vado sul mio time frame di analisi intraday per andare a vedere ancora più nel dettaglio la precisione praticamente di quello che è il livello perché con i time frame grandi individuo le aree va bene poi con il time frame di intraday che è quello che utilizzo per la mia operatività vado a vedere i livelli proprio quelli chiamiamo definiti al ticno cioè vado proprio a livello a lavorare in modo chirurgico per capire nell'area in cui ho individuato questa reazione del prezzo qual è poi realmente il prezzo che ha sentito maggiormente il mercato quindi da lì ho praticamente fatto un'analisi abbastanza col microscopio fino ad andare a individuare proprio i volumi su quel tipo di livello e lì piazzo ovviamente le mie aree dove definisco di acquisto o di vendita cosa faccio poi tutta questa analisi di tutti i mercati io ho un libro di trading va bene dove comincio a scrivere tutto per fine ogni giornata scrivo quello che sono le mie analisi e poi faccio nel fine settimana faccio questa revisione di analisi dove vado a vedere se tutte le analisi che ho fatto nella settimana poi veramente si sono si sono rivelate giuste quindi vado a vedere se il mio sistema di analisi continua a performare la stessa cosa lo faccio che una volta che ho fatto l'analisi scrivo quello che è la mia visione e i miei livelli operativi per la settimana futura quindi faccio un lavoro di verifica e un lavoro preparatorio questo è il mio lavoro diciamo del sabato mattina ok e lo faccio per ogni singolo mercato più o meno mi costa quattro ore cinque ore di lavoro questo tutti i fini settimana poi cosa faccio l'analisi del diario di trading per capire dove migliorare questa è una cosa fondamentale spendo più o meno un'oretta all'incirca un'ora dove vado a vedere un po' i trade che ho fatto e vado a vedere se innanzitutto dove un po' posso migliorare l'operatività magari che ne so sono entrato troppo tardi troppo presto magari ho messo lo stop in una maniera che non era proprio giusta anche se il trade è andato bene però magari lo stop l'ho messo magari non preciso quindi cerco di sempre di fare un po' di analisi sul mio comportamento sul mercato per cercare di capire due cose il primo se sono settato col mercato quindi se il mercato facciamo un esempio nella mia analisi era che la settimana era di vendita posso fare un esempio e ovviamente i trade migliori sarebbero stati quelli anche in intraday in vendita quindi vado a vedere se nella settimana sono stato più compratore o venditore e se questo ha praticamente allineato con l'analisi settimanale se non lo è allora c'è proprio un non c'è un problema di comportamento però comunque sia c'è una cosa che io la definisco che non sono allineato col mercato un disallineamento tra me e il mercato cioè magari che ne so sono stanco magari un momento dove magari sono un po' eh troppe ore davanti ai grafici c'è ci sono tante problematiche quindi analizzo anche questo comportamento che per me è importante perché poi nell'intraday la performance va fatta eh si si basa su veramente quattro cose quindi bisogna stare molto attenti a essere sempre dalla parte giusta del mercato a me è questo che mi piace che non vuol dire che ogni trade deve andare in profit ma ho questa peculiarità che mi piace dire che se sono faccio un esempio venditore ecco io devo shortarlo il mercato non mi piace dichiararmi venditore poi me lo vado a comprare questo per me è un comportamento che non funziona perché ovviamente scontra un po' con l'analisi che faccio quindi io mi analizzo molto su questo tipo di 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 comportamento e questo fa parte del mio lavoro analisi comportamentale alle fine settimana e poi ovviamente se da questa analisi dei trade che faccio quindi io analizzo tutto il diario di trading cosa viene fuori viene fuori eh se c'ho qualche come dicevo prima eh debolezza psicologia quindi devo lavorare anche sulla psicologia sul comportamento per migliorare ovviamente la mia performance questo è quello che devo fare per forza tutti i giorni e questo è quello che io faccio il fine settimana. Allora ti interrompo un attimo Matteo alla faccia del qualcuno diceva beh ma io compro vendo apro il computer cinque minuti prima che apre il mercato e clicco metto metto lì e faccio i soldi ecco poi vi vi chiedete perché magari non guadagnate con il trading e perché un trader professionista invece poi lavora con un fondo americano e guadagna anche con il trading vedete la parte di preparazione quant'è quanto è importante torni un attimo indietro nella slide precedente Matteo eh perché sono due quattro sei otto punti eh di di lavoro che eh soltanto di preparazione all'attività all'attività di trading di preparazione e anche poi di revisione no quindi vedete com'è non è soltanto qui compro qui vendo e poi conto i soldi eh no qui eh uno deve fare tutta la bella analisi capire com'è il mercato individuare le aree non è ok quando c'è quel setup è entrato sempre quel setup in tutte le condizioni no trato quel setup nell'area 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 giusta che quello migliora l'affidabilità la revisione del trade quindi eh vedere poi dove uno ha fatto bene dove ha sbagliato eh registrarlo su un diario di trading capire tutta l'aspetto all'aspetto psicologico c'è tanto lavoro vai Matteo è fondamentale fare questo facci vedere degli esempi è fondamentale fare questa questa cosa proprio perché ti dà poi quello che è la risposta nella tua operatività quindi bisogna spendere tempo e farlo questo ad esempio è un classico grafico che io uso settimanale quindi ogni ogni candela un classico classico grafico temporale ogni candela è una settimana di trading con ovviamente un classico indicatore volumetrico che ovviamente qui utilizzo come vedete non ho indicatore non ho nulla perché utilizzo la classica analisi tecnica quindi mi vado a tirare un po' le trend line mi vado a vedere quelli che sono stati i massimi e i minimi eh se il mercato ha fatto un nuovo minimo se non l'ha fatto se eh compra i minimi se vende i minimi o il contrario sui massimi cioè vado un po' identificare quello che è la forza del mercato questo è quello che mi serve a me è una cosa sul settimanale essendo io un trader intraday è un'analisi più che altro eh come dicevo prima macro no quindi non è non è incisiva o specifica per poi l'operatività però mi piace capire la forza va bene e la classica analisi tecnica in questo è molto è molto forte perché ci fa capire dove il mercato potrebbe andare a toccare certi livelli quindi questo io me li segno come livelli poi ovviamente di reazione va bene poi ovviamente cosa faccio va a scendere in un grafico un po' più un po' più piccolo poi quindi in daily e vado a insegnarmi vado a segnarmi quello che sono a livello proprio grafico eh le aree di vendita come dicevo prima come vedete sono aree abbastanza ampie parliamo di eh ad esempio questo è un prezzo di 4.500 dell'SP 500 fino a 4.700 quindi sono 200 punti quindi è un'area enorme come vi dicevo prima però eh mi fa capire che in quella zona ci sono i venditori oppure in un'altra zona come se fosse questa ci sono i compratori quindi io quando il prezzo si arriverà in quella zona se sono a mercato devo sapere che potrei avere il prezzo che mi viene contro mettiamo caso che l'ho comprato un po' prima lì mi possa aspettare che il prezzo o rimbalzi o comincia a lateralizzare quindi devo cominciare a capire come gestire la mia operatività idem sulle zone di acquisto quindi l'analisi mi serve per questo praticamente poi ovviamente questo è il classico time frame giornaliero quindi vado a vedere come vedete siamo scesi su un time frame più piccolino dove ovviamente andiamo a vedere più nello specifico i livelli più precisi diciamo no quindi vediamo proprio come il mercato sente alcune aree una precisione quasi maniacale no e questo mi aiuta a fare che cosa mi aiuta per l'anche per la gestione del rischio quindi un conto è operare un'area che sono 300 punti e un conto sapere che la vera area poi alla fine è magari soltanto i 200 punti 15 a 100 punti dove la gestione del rischio ovviamente cambia totalmente quindi per posizionare stop posizionarsi a livello di sites e c'è tutta una serie di cose che poi ovviamente vanno valutate vedete come nell'area di acquisto il mercato ha sentito proprio con una precisione al tic il livello e si è girato quindi guardate quest'area come è stata precisa quindi ovviamente cosa faccio se il prezzo facciamo un esempio e dovessi tornare su quest'area io ovviamente mi aspetto un comportamento molto simile quindi è difficile che in quest'area me lo andrò a vendere al mercato quindi aspetterò che il prezzo arrivi su quest'area di acquisto e magari tenterò a ricomprarlo di nuovo ovviamente dovrò avere per comprare per vendere tutto quello che io li definisco i miei setup cioè le mie regole intraday ovviamente no e poi questo è la classica analisi intraday cioè dalla stessa analisi che abbiamo fatto su un livello e che ho tirato a livello giornaliero a livello settimanale praticamente vado a vedere intraday poi la vera area di reazione va bene quindi per essere più preciso possibile perché questo non tanto per una questione di di essere preciso ma perché nell'intraday siccome che i trade sono corti cioè sono piccoli non facciamo tanti punti nel senso che possiamo fare 40 50 70 100 punti di indice però lo stop la dimensione dello stop incide tantissimo sul rischio rendimento quindi se un conto emette uno stop facciamo un esempio di 20 30 punti un conto emette di 7 8 ecco io normalmente oggi lavoro con uno stop più o meno di 8 10 punti a volte anche più stretto dipende dall'operatività o un'operatività molto chirurgica molto precisa molto proprio grazie a quest'analisi volumetrica riesco a stare abbastanza preciso su su dei livelli mi piace questa cosa negli anni l'ho sviluppata e quindi il mio rischio rendimento automaticamente avendo uno stop molto stretto anche se soltanto il mercato facciamo un esempio 25 30 punti ma realmente ne ho persi 8 io sono già con un rischio rendimento superiore a 3 e questo ovviamente paga molto nel lungo periodo ti permette anche di avere delle size un po più grandi non avere gli stop più vicini esatto e così facendo le size le posso ingrandire posso avere o più tempo per analizzare lo sviluppo del trade e nel caso incrementare le size quindi lavorare su un money management molto più sviluppato molto più sotto controllo e ovviamente orientato che cosa alla performance perché questo è quello che noi cerchiamo di trader intraday quello che noi dobbiamo fare o cercare di fare performance con un rischio con un rischio contenuto perché comunque tu facendolo anche per il fondo fondo di mente dei parametri di diri di rischio molto stretti se vedete quelli della prop quelli del fondo di matteo sono molto più stretti rispetto a quelli della della prop quindi avere come dire un'operatività che ti fa mettere degli stop molto molto vicini e dall'altra parte di far prendere dei quindi fa lavorare con sites più grandi e prendere performance più grandi rispetto al rischio che uno che uno corre per l'operatività del fondo è ottimale no perché è ottimale e soprattutto è lì che poi pigliamo le commissioni bonus quindi se riusciamo il nostro compito dico sempre che è dentro e dentro dei a livello istituzionale il nostro benchmark alla fine è il vwap no quindi noi dobbiamo lavorare per battere vwap ogni singolo giorno noi abbiamo a fine giornata abbiamo il report se abbiamo lavorato bene o se abbiamo lavorato male cosa vuol dire che se il vwap facciamo un esempio come in questo caso nella giornata è cresciuto adesso dico una cifra a caso dell'uno per cento dal momento dell'apertura ecco noi a livello di acquisto di vendita dipende quello che ci dice la nostra strategia dovremo fare almeno 1.01 per cento per battere vwap quindi ecco che riuscire a andarlo a vendere o a comprarlo su dei livelli proprio quasi millimetri al tic fa totale differenza perché ti puoi permettere di tenere uno stop piccolo incrementare la size e a quel punto lì il tuo conto a fine giornata è cresciuto di più del vwap quindi il trader intraday tra virgolette ha senso di esistere se no è a poco senso di esistere quindi questo quello che l'analisi settimanale mi porta a fare ok va bene e questo poi ovviamente scendo ancora come vedete questo il mio classico time frame operativo e vi faccio avevo messo qua appunto una semplicissima operazione che ho fatto che praticamente sullo stesso livello che ho tirato la l'analisi va bene ho fatto poi l'operazione e vedete proprio che lo stop viene messo proprio quasi un ticchettino sotto il livello che avevamo tirato perché siamo andati proprio col microscopio a vedere poi in quest'area che era un'area abbastanza ampia perché sono se non sbaglio 30 punti in questi 30 punti realmente non dovevo mettere uno stop di 30 bastava uno stop di vedete in questo caso circa un 10 punti 15 punti quindi con uno stop molto stretto il mercato ne ha fatti poi alla fine da 325 di ingresso più o meno è arrivato a 300 quasi 400 390 400 quindi ha fatto 70 80 punti quindi su 15 punti di rischio ne abbiamo portati a casa quattro volte tanto ed è questa la forza della dell'operatività sull'analisi volumetrica perché ovviamente la partenza per operare ovviamente in questo modo devi fare un'analisi super super precisa dettagliata e l'analisi è fondamentale questo è ovviamente che cosa anche imparare a capire quali sono le forze che dominano il mercato perché se io avessi shortato il mercato in questo caso gli short avrebbero fatto poca strada vedete che in questo momento il mercato ha cominciato a comprare perché ovviamente c'è tutta una logica dietro volumetrica che ci fa ci insegna e ci dice chi è chi sta dominando il mercato in tempo reale e il che fa una differenza enorme perché se l'obiettivo qual è mettersi sempre dalla parte di chi poi alla fine controlla il mercato quindi se sono i compratori o se sono i venditori per fare in modo proprio per far sì che tutto questo possa esistere c'è uno stop stretto il mercato quando entri va subito dalla tua parte e ti dà tutti i punti che ti deve dare questo è fondamentale no e poi questo è una coppia del mio diario di trading dove scrivo praticamente tutto ogni singola operazione che faccio metto la data l'ora di ingresso il tipo di tre che ho fatto il livello di ingresso e l'area quindi se il livello è corretto c'è sia all'interno dell'area che avevo tirato bene questa questo dove c'è scritto area mi serve per capire se è l'area che io avevo tirato in analisi va bene e poi ovviamente scrivo il motivo va bene il mio trade scrivo quanti punti ho fatto la size che sono entrato e il trigger che cos'è quello la quella cosa che mi fa decidere per entrare al mercato quindi io decido dico ok io voglio entrare al mercato solo c'è se ho un setup io ho un setup ben preciso veramente ne ho due o tre ne ho che opero nel nell'intraday quindi quando questi setup con certe caratteristiche che ovviamente ho preparato prima si verifica sul mio determinato livello o sull'area in cui ho deciso di dall'analisi ho identificato come il livello di acquisto a quel punto eseguo quindi questo è il trigger va bene e poi ovviamente come vedete metto anche un po di in tempo reale cerco per quello che posso fare il comportamento che ho fatto c'è un comportamento regolare oppure sono stato aggressivo sono stato un po titubante e cerco di capire se quello che sto facendo anche a livello comportamentale in tempo reale funziona cioè mi do un feedback da solo ovviamente cerco di essere il più onesto possibile questo per perché perché poi in quell'analisi che dicevamo prima settimanale di comportamento vado a vedere se io sono stabile o addirittura quali sono grazie al diario di trading anche le ore in cui magari performo meglio quali sono le ore che performo peggio e come mi comporto che ne so nella fascia dalle 9 alle 10 o dalle 10 a mezzogiorno facciamo un esempio no cioè ho tanta statistica no e questo mi aiuta a fare che cosa a capire che quando sono ovviamente quando c'ho questa statistica quando sono più performante devo insistere un po di più quindi mi posso permettere di entrare con più contratti mentre invece se so che dalle 10 in avanti sono già stanco o ho poca visione è meglio che se devo tradare primo sarebbe meglio non tradare però se dovessi tradare comunque le sites ovviamente le riduco perché il focus va sempre sul rischio e quindi questa è una sorta di diario di trading che io mi mi posto dove sono ovviamente tutti i miei livelli dichiarati perché una cosa che io faccio e tutte le mattine io dichiaro prima dove vado a comprare dove vado a vendere quindi non entro a caso nel senso l'analisi mi serve per questo e ovviamente poi ho anche chi controlla questa operatività cioè se io dichiaro un livello e poi non eseguo ovviamente se ho il setup e non eseguo non dico che è un problema però mi chiedono come mai non è operato non è eseguito cosa è successo ti sei addormentato mentre stavi là davanti al computer che hai fatto esatto ti sei distratto e via dicendo infatti quando anche a livello operativo quando si è in sessione di trading eliminiamo le distrazioni le chat i telefoni le youtube questa roba qua leviamo tutto cioè stiamo focalizzati attendiamo il nostro livello lavoriamo un paio d'ore tutte le mattine fatte bene mirato preciso e poi la giornata è tutta nostra e facciamo quello vogliamo questo è il bello dell'intraday ti interrompo matte fateci sapere un po scrivetecelo nei commenti oppure dentro il gruppo dentro il gruppo telegram vita da trader se non siete ancora entrati nel gruppo telegram vita da trader guardate la mail perché vi è arrivato sicuramente tramite tramite mail oppure ve lo magari ve lo mettiamo anche sotto in descrizione se ancora non l'avete non l'avete visto quindi ci cliccate in descrizione e venite nel gruppo così parlate direttamente direttamente insieme insieme a noi se avete qualche dubbio c'è matteo ci sono io e vi rispondiamo vai matt e poi questo è la mia parte che vi dicevo prima un po più dettagliata lo scritto quello che faccio settimanalmente sulla psicologia quindi dopo l'analisi dei mercati passa ad analizzare tutta quella operatività e quindi ho cercato di scrivere più dettagliatamente 4 5 punti che per me sono importanti uno va bene il diario di trading come vi dicevo rivisto in tutta negli eseguiti della settimana ma poi osservo che cosa non tanto quello che ho fatto che è importante quello che ho fatto bene che non ho fatto male o posso migliorare ma io vado a vedere quello che mi sono perso cioè io una cosa che ho sempre analizzato è come mai magari facciamo un esempio prendevo il primo movimento delle che ne so alle 9 e mezza alle 10 ok di 30 40 punti e poi magari alle 11 e mezza il mercato mi dava un trade che poteva essere che posso di 100 punti no a volte vi sarà anche capitato anche a voi vi prendete un pezzettino e poi il mercato continua a correre e dici ma cavolo fossi rimasta al mercato sarebbe veramente una bella giornata ecco io lavoro molto su quello cioè vado a vedere quello che mi perdo e cerco di capire perché me lo sono perso quindi se ad esempio mi distraggo dopo il primo trade o dopo il primo trade mi calo l'adrenalina mi calano un sacco di cose e cerco ovviamente di lavorarci su queste cose cerco di stare attento e i miei obiettivi sono sempre settimanali cioè la settimana successiva scelgo un comportamento che non voglio più fare ok e questo mi aiuta a rimanere più focalizzato quindi quello che devo migliorare diventa l'obiettivo della settimana successiva e questa routine la eseguo praticamente in modo costante ogni fine settimana ormai in modo automatico quindi fa parte della mia vita se questo è quello che io personalmente faccio nel fine settimana bene bene matt super interessante fateci sapere ragazzi se lo fate anche voi se fate parte di queste cose le cose vi riescono più semplici da fare non a livello di trading ma anche a livello di monitoraggio dell'attività dell'individuazione dei setup quello che vive quello che vi pare problemi anche magari a livello di emozioni avete paura di rientrare nel trade avete paura di lasciar correre i profitti non riuscite a chiudere rapide le perdite individuare i migliori livelli non lo so quello che quello che volete scrivetecelo venite nel gruppo telegram e ne parliamo quindi trovarlo trovate sotto in descrizione piuttosto che se vi siete iscritti all'iniziativa vita da trader lo dovreste aver ricevuto tramite email matte io ti ringrazio per questa per questo primo video non è finita qui ragazzi ne usciranno ne abbiamo ancora altri altri cinque usciranno nei prossimi nei prossimi giorni quindi riguardatelo bene perché ha dato veramente tanti spunti matteo e poi noi ci vediamo nel prossimo video dove vedremo un altro un altro contenuto molto 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 importante grazie matte grazie a tutti ciao ragazzi grazie a tutti voi